Vai Sergio, vai anche tu, veloce però, veloce! Grazie! Guarda cosa ce n'è giù ancora, no, la bannonia è quella là. La Statua della Libertà c'è sempre in mezzo a rovinare il panorama, eh! Cosa c'è Sergio? Ho detto che si è dal ponte sul Tamisi, li metti sugli occhiali e li vedi? Però con gli occhiali, non lo vedi!